Siamo pronti per ricominciare, avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati, avverto inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni alla luce di quanto stabilito dall'Aggiunta per il Regolamento, nella riunione del 4 novembre 2020 i deputati possono partecipare in videoconferenza all'ordierna seduta di interrogazioni a risposta immediata. Ricordo altresì che, secondo l'articolo 135 tercoma 4, primo periodo del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del Governo, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti. Cominciamo dalla prima interrogazione dei colleghi di Forza Italia, c'è il collega Perego di Cremnago per l'illustrazione. Prego, a lei la parola. Grazie Presidente. L'articolo 2 della legge 212 stabilisce l'obbligo per le giunte comunali tra il trentatresimo e il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni di delimitare degli spazi a destinare alla fissione di stampati per la propaganda elettorale. Alla data del 12 settembre 2021 il Comune di Milano non aveva ottemperato a questa delibera, in particolare delle 28 liste ammesse sono stati installati soltanto 24 pannelli, escludendo la possibilità per la lista di Forza Italia di poter avere uno spazio adeguato per la propria propaganda elettorale. Si chiede se il signor Ministro Sottosegretario sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali azioni intende intraprendere per prestinare la regolarità dello svolgimento della campagna elettorale. Prego, Molteni. Grazie Presidente. Onorevi deputati, come noto con decreto del Ministro dell'Interno del tra agosto del 2021 è stata fissata per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 la data di svolgimento delle consultazioni per le elezioni dirette dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali. Tanto premesso, in ossequo all'articolo 2 della legge 212 del 56, in materia di propaganda elettorale, le giunte comunali dal 33 al 31 giorno antecedente quello della votazione e quindi per la prossima tornata amministrativa da martedì 31 agosto a giovedì 2 settembre 2021 erano tenute a stabilire e a delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda. A tal fine il Comune di Milano, su proposta dalla competente direzione dell'area pubblica e occupazione del suolo pubblico, con delibera di giunta comunale 1058 in data 1 settembre 2021 e immediatamente eseguibile, ha individuato e delimitato sul territorio cittadino il numero di 170 posti, spazi, distinti per ciascuna elezione da destinare alle affissioni di propaganda diretta per elezioni in data 3-4 ottobre 2021 ed eventuale turno di balottaggio in data 17-18 ottobre 2021 del Sindaco, del Consiglio Comunale di Milano e nonché del Presidente dei Consigli di Municipio. La determinazione del numero degli spazi è avvenuta nel rispetto della normativa vigente che ha ridotto a un terzo gli spazi da destinare alla propaganda diretta per i comuni con popolazione residente superiore ai 500.000 abitanti. In ragione di tale modifica normativa si sono ridotti gli spazi per le amministrazioni comunali che le amministrazioni comunali devono mettere a disposizione per l'effettuazione della propaganda diretta che dalle 500 località previste distintamente per ciascuna elezione si riducono conseguentemente a 170. Nella delibera è stato inoltre previsto che con successiva determina dirigenziale si sarebbe provveduto all'assegnazione degli spazi di propaganda sulla base delle liste ammesse alla consultazione elettorale. La delibera è stata infatti adottata in data antecedente alla conclusione dell'operazione di ammissione delle liste da parte delle competenti commissioni elettorale e ai sorteggi per l'assegnazione dei numeri progressivi da attribuire alle cariche di sindaco, presidente di municipio, consiglieri comunali e consiglieri municipali. Sorteggi che si sono ottenuti lo scorso 6 settembre e i cui esiti sono stati successivamente comunicati all'ente locale. Il comune capoluogo interessato dal prefetto di Milano ha precisato che il numero di pannelli inizialmente previsti per le liste relative all'elezione del consiglio comunale pari a 24 per singolo impianto e ad un totale di circa 4.000 pannelli era stato definito in un'ottica ampiamente prudenziale, posto che in occasione delle precedenti elezioni del 2016 erano state presentate un totale di 17 liste e quindi un numero ben inferiore alle 28 liste che sono state poi concretamente ammesse alla prossima competizione elettorale. Con successivi determinazioni dirigenziali, il direttore della Repubblica e Occupazione suolo pubblico ha ricevuto le comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale in ordine agli esiti dei sorteggi ha disposto ai conseguenti provvedimenti di delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale debitamente pubblicati all'albo pretorio del Comune di Milano. In considerazione della necessità di incrementare tempestivamente il numero di pannelli presenti presso ciascuno spazio dedicato alla propaganda, il Comune di Milano ha inoltre proceduto ad avviare i lavori necessari per l'implementazione di tutti i 170 impianti elettorali presenti nei 9 municipi. Alla data del 14 settembre 2021 nei municipi 2, 6, 7, 8 sono già stati integrati gli impianti elettorali delle quattro postazioni mancanti che sono usufruibili dalle liste aventi diritto. Per i municipi 1, 3, 4, 5 e 9 il Comune ha assicurato che l'operazione di montaggio finalizzate all'integrazione delle quattro postazioni mancanti sarebbero terminate nella serata di mercoledì 15 settembre rendendo pertanto furibili anche quegli spazi. Il Comune di Milano ha inoltre comunicato che né i candidati sindaco presidente né le liste sono state penalizzate in conseguenza del numero progressivo all'ora segnato in quanto in assenza di un numero sufficiente di tabelloni non è stata consentita nessuna fissione di manifesto elettorale. In data odierna il Comune di Milano ha reso noto che i lavori di installazione dei pannelli per la propaganda elettorale sono proseguiti senza sosta fino alla tarda serata di ieri 15 settembre e che da stamattina sono tutti operativi con piena fruibilità per le forze politiche. È stato inoltre confermato che tutte le liste hanno avuto la possibilità di procedere tempestivamente alla fissione di tutti i manifesti nei singoli spazi non appena questi sono stati dotati di un numero di pannelli pari al totale delle liste elettorali ammesse alla competizione elettorale stessa. Il Prefetto di Milano ha anche specificato che nel caso di specie non vi fossero margiri per la nomina di un commissario posto che la delibera di giunta con cui sono stati stabiliti gli spazi a destinare alla fissione è stata adottata nei termini di legge di cui l'articolo 2 della legge 212 del 56. Al contempo, al di là della sussistenza o meno di un potere sostitutivo per l'esecuzione della libera, il Prefetto di Milano non appena interpellato ne ha richiesto l'immediata attuazione verificando il pieno adempimento. Onorevole Perego di Cremlago, a lei la parola per la replica. Grazie signor sottosegretario Molteni, ma da secca dalle sue parole si evince come ci sia stato un vuoto da parte del Comune di poter, nonostante aver conosciuto che la data del 3 settembre e lì si erano 28, di poter quindi immediatamente adeguare le strutture preposte all'installazione dei pannelli aggiuntivi. Non reputiamo che il fatto che non siano state presentate nessuna fissione sia una giustificazione sufficiente per poter dire che ci sia stata un'equa distribuzione del danno. Tra l'altro la cosa da sottolineare è che il Sindaco del Comune di Milano è parte in causa nella campagna elettorale e quindi troviamo questo un grave danno a una democrazia che dovrebbe garantire i diritti di propaganda elettorale nella stessa maniera per tutti e con i tempi consoni perché installare i pannelli a due settimane dall'elezione non ci sembra assolutamente appropriato e questo è un grave danno non soltanto alla lista di Forza Italia ma anche al regolare svolgimento della campagna elettorale. Grazie. Grazie a lei, proseguiamo con la prossima interrogazione. Collega Prisco, prego. Sì, allora come è noto a decorrere dal giorno delle inizioni dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e i movimenti politici presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro gli spazi, le loro proprietà per conferenze e dibattiti e il prefetturo, il prefetto assicura appunto il corretto svolgimento dei procedimenti elettorali e quindi la corretta applicazione delle disposizioni in materia di parconicio. A Bologna invece la richiesta di una piazza in zona centrale per lo svolgimento della manifestazione elettorale di Fratelli d'Italia che vedeva tra l'altro la presenza della leader nazionale del partito Giorgia Meloni eh indetta per il ventisei settembre non ha avuto una risposta positiva stante il fatto che sembrerebbe che tutte le spazze centrali sarebbero già occupate da altri eventi o e l'amministrazione comunale ha quindi eh consigliato di relegare l'evento di Fratelli d'Italia in una piazza marginale eh dove tra l'altro si svolgerà. Eh tra l'altro faccio notare che molte forze politiche svolgeranno hanno svolto in posti molto più accessibili centrali le proprie iniziative elettorali nel corso di questa campagna elettorale che quindi sostanzialmente solo Fratelli d'Italia risulta l'unico partito eh che per la strana concomitanza di numerosi eventi di diversa natura che dovrebbero essere tra l'altro eh non prevalenti durante eh negli spazi assegnati alla campagna elettorale cioè non può svolgere il la propria manifestazione in un'area centrale della città. Quindi chiediamo quale eh misura intenda assumere il ministero perché venga rispettata una par condicio sostanziale nello svolgimento delle competizioni elettorali. Prego sottosegretario. Signor presidente in merito a quanto segnalato dal collega Prisco la prefettura di Bologna ha acquisito elementi informativi dal comune capoluogo. In particolare è stato riferito che per la tornata elettorale del tre quattro ottobre prossimi l'aggiunta comunale con delibera il sette settembre scorso ha ampliato il numero delle piazze destinate alla propaganda elettorale per i comizi portando così da sei a il numero di luoghi deputati a ospitare le riunioni politiche. Tale ampliamento è stato disposto a seguito della riunione della commissione interpartitica tenutasi presso il comune di Bologna lo scorso primo settembre. L'occasione della quale tutti i presenti tra i quali il capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia hanno approvato all'unanimità la modifica di questione. Il comune ha riferito altresì che con comunicazione PEC del tre settembre scorso acquisita il protocollo generale dell'ente. Il capogruppo di consiglio comunale di Fratelli d'Italia ha comunicato che in data 26 settembre dalle ore 9 alle ore 13 Fratelli d'Italia organizzerà un comizio elettorale col presidente nazionale del partito presso Piazza Galvani con nota della segreteria generale datata 9 settembre. Il comune ha rilasciato il proprio nulla osta allo svolgimento del comizio nella piazza nella fascia oraria indicata nella richiesta. Su un piano più generale va rilevato che l'assignazione delle piazze da parte del comune è disciplinata da un apposito regolamento comunale a norma del quale l'assignazione avviene in base all'ordine di presentazione delle domande risultante dalla protocollazione. Ogni partito può esercitare per una sola volta il diritto di precedenza su alte prenotazioni per comizi che vedono la partecipazione del segretario nazionale o del presidente. Con riferimento agli ulteriori aspetti evidenziati nell'atto del sindacato ispettivo relative all'organizzazione di numerosi eventi di varia natura concomitante con la campagna elettorale, la questura di Bologna ha reso noto che il 26 settembre prossimo sono in programma in alcune piazze della città diverse manifestazioni tradizionali, tra le quali il festival francescano che secondo una tradizione ormai consolidata si svolge in piazza Maggiore e piazza Nettuno. Rispetto ai fatti oggetto dell'atto del sindacato ispettivo parlamentare, la prefettura di Bologna ha come di consueto provveduto a diramare la circolare ministeriale inerente alla propaganda elettorale e ha reso noto che ad oggi non sono pervenuti esposti riferiti alle specifiche questioni oggetto dell'interrogazione da parte delle minoranze politiche impegnate nella competizione elettorale. Prego Prisco. Io ringrazio il sottosegretario Molteni del tentativo di dare una spiegazione sulla base ovviamente di quelli che sono gli atti che la prefettura gli ha fornito, mi pare evidente però che poi conti la sostanza, in realtà la Fraternità ha fatto una richiesta di tutte le piazze centrali il 30 di agosto, quindi insomma nei termini fissati dal regolamento soltanto rispetto alla preclusione, alla partecipazione e alla manifestazione nelle piazze principali dove tra l'altro insomma tanto per ricordare il Partito Democratico ha svolto 15 giorni di festa nazionale, ha fatto richiesta il 6 di settembre di un spazio secondario perché è l'unico dove era possibile poter ospitare la manifestazione. Mi pare evidente che il Comune abbia come dire utilizzato le norme sulla par condicio elettorale a proprio uso e consumo e comunque per limitare gli spazi dell'alternativa di centrodestra e di Fratelli d'Italia al Comune di Bologna e che mi pare altresì evidente la prefettura non abbia fatto tutto quello che doveva fare per rendere sostanziale la par condicio tra le forze politiche di coalizione di partito presenti nella competizione elettorale di Bologna. Mi auguro che possa diciamo al netto di questa di questa evenienza sulla quale ovviamente noi non abbiamo fatto polemiche politiche particolari ma eh ci siamo accontentati per dire dello spazio che ovviamente eh sarà riempito con grande facilità insomma dal leader nazionale Giorgia Meloni eh mi auguro che questo serva però per le prossime volte per le altre circostanze le altre città perché questo non accada non è possibile che le norme vengano eh interpretate per eh i nemici e eh utilizzate per gli amici quindi credo che insomma eh meriti una segnalazione sia il prefetto sia il ministero a vigilare su quella sulla corretta applicazione delle norme ma anche il Comune di Bologna che obiettivamente insomma ha gestito la cosa eh se lo vogliamo considerare in buona fede in modo superficiale eh sempre che ovviamente non ci sia stato un disegno politico in in questo senso. Grazie a lei ora eh il mio turno quindi procedo con l'illustrazione il prossimo tre e quattro ottobre si voterà in più di milleseicento comuni tra le eh elezioni amministrative e regionali suppletive. Come sappiamo questa nuova data è stata fissata a seguito del rinvio operato con il decreto legge venticinque del duemila ventuno nello scorso marzo e già in quella circostanza con un'interrogazione in questa commissione abbiamo sottolineato il rischio di diversi disagi per l'attività didattica dal momento che l'ottantasette per cento dei seggi si trova all'interno di edifici scolastici. Per evitare questi disagi il Movimento Cinque Stelle ha fortemente voluto l'istituzione di un fondo da due milioni di euro all'interno del DN sostegni per incentivare i comuni a trovare sedi di seggio alternative agli edifici scolastici. Il termine per comunicare la venuta adesione all'iniziativa è scaduto nel mese di luglio. Proprio ieri abbiamo appreso da un comunicato del Viminale il numero dei comuni che hanno aderito all'iniziativa che sono centodiciassette per un totale di cinquecento dieci seggi e oltre trentamila studenti interessati. Nella maggior parte dei casi sono stati individuati come sedi alternative palestre comunali, strutture polivalenti, uffici municipali dismessi. Chiediamo dunque al Ministero di fornire una valutazione dell'impatto della misura e se intenda rifinanziare questo fondo al duemilaventitré fino al duemilaventitré in vista delle prossime consultazioni elettorali. Prego. Grazie Presidente. Onore dei deputati, riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti nell'atto del sindacato ispettivo, tramento preliminarmente che l'articolo ventitrabbis del decreto legge 22 marzo duemilaventuno, numero quattuno, prevede al comma uno che, in considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno duemilaventuno, previsto con decreto legge 5 marzo duemilaventuno, numero venticinque, nonché nel permanere del quadro epimediologico del covid-19 al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno ventuno, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il quindici luglio duemilaventuno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei sedi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate al senso del presente comma devono avere requisiti previsti a legislazione vigente per essere debita a seggio elettorale. La medesima norma prevede altresì che i criteri e le modalità di concessione dei contributi siano stabiliti nei limiti della dotazione del predetto fondo con decreto del Ministero dell'Interno da adottare di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze previ intesa in sede di conferenza unificata. A riguardo con apposite circolari in data 23 febbraio e 26 maggio 2021 i prefetti sono stati invitati a sensibilizzare i sindaci ad assumere le iniziative ritenute opportune per individuare sedi alternative agli edifici scolastici da adibire a sezioni elettorali. Il decreto interministeriale a cui ho fatto prima accenno è stato esaminato nella conferenza unificata il 17 giugno 2021 e successivamente sottoscritto in data 15 luglio 2021. Individuando come criteri per il riparto del fondo il numero delle sezioni trasferite in una sede extrascolastica e quello degli studenti che beneficeranno della mancata sospensione dell'attività didattica con assegnazione a ciascuno di un diverso peso rispettivamente 30 centesimi al primo criterio e 70 centesimi al secondo. Tutte le prefetture hanno fornito riscontro alla circolare inviata il 26 maggio dal Ministero dell'Interno facendo conoscere i comuni interessati all'iniziativa, le sedi individuate e la stima dei costi necessari per adeguare gli edifici quali siedi alternative agli istituti scolastici da adibire a sezione elettorale. A seguito della ricognizione svolta i comuni che hanno manifestato interesse sono 117, tra i quali Bologna, Napoli e Torino, per un totale di 510 seggi elettorali da spostare su 5.928 sezioni complessive e gli studenti coinvolti sono 30.591. Inoltre risultano essere state richieste dai comuni interessati risorse per un totale di 2.064.4275 euro. Nella maggior parte dei casi sono state individuate come sede alternative palestre comunali, strutture polivalenti ed uffici municipali dismessi. Inoltre in applicazione dei criteri indicati nel decreto interministeriale sono state definite le somme da assegnare a ciascun comune in relazione al fondo dei 2 milioni di euro. Successivamente sono state interessate le prefetture affinché informassero i sindaci dei comuni coinvolti in ordine al contributo assegnato che sarà effettivamente erogato a seguito della ricezione di apposita comunicazione dell'ente locale dell'avvenuto trasferimento dei seggi. Per completezza di informazione evidenzio che sono altresì pervenute ulteriori 197 richieste di comuni che non sono comunque coinvolti nella consultazione elettorale per l'anno 2021 per un totale di 6 milioni, oltre 6 milioni di euro. L'interesse dimostrato dai comuni testimonia la bontà dell'iniziativa che compatibilmente con l'equilibrio di finanza pubblica, nell'ipotesi in cui se ne ravvise l'esigenza, anche a prescindere dall'attuale contingenza, potrà essere continuata. Ottimo, la ringrazio davvero per questa risposta. Mi tengo soddisfatto anche per appunto il giudizio che è stato dato rispetto all'iniziativa e ovviamente esprimiamo soddisfazione per questa misura e ringraziamo tutti i sindaci, soprattutto quelli dei piccoli comuni che hanno permesso a 30 mila studenti di poter continuare ad andare a scuola e non dover stare a casa solo perché le loro classi appunto erano sede di seggio. L'abbiamo sempre detto, continuiamo a dirlo, che le elezioni non possono fermare le elezioni e il governo deve essere consapevole, ha dimostrato di esserlo, che c'è ancora molto lavoro da fare, infatti l'interesse di tutti i comuni che non sono riusciti ad accedere a questa misura lo dimostra. Noi siamo disponibilissimi ad un confronto con il Viminale e con i comuni per trovare ancora nuove soluzioni, però appunto ci riteniamo molto soddisfatti di questa prima prova che si è avuta per individuare queste sede alternative. Ora procediamo con l'interrogazione da parte di Marco Di Maio, prego. Grazie, grazie Presidente. L'interrogazione è un'interrogazione che cerca di chiedere al Ministero chiarezza relativamente alla possibilità di dare una adeguata sede ai Vigili del Fuoco di Cattolica, più in generale alle strutture e ai mezzi del Corpo di Vigili del Fuoco nella provincia di Rimini, ma per accelerare i lavori lascerei subito spazio alla risposta del Sottosegretario, che ringrazio. Grazie a lei, prego Sottosegretario. Grazie Presidente, saluto al collega Di Maio. Con l'interrogazione all'ordine del giorno viene sollecitato il superamento delle criticità che riguardano l'istaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Cattolica. Tale distaccamento è collocato in una serie di proprietà comunale, concesso e incomodato d'uso gratuito, ma con caratteristiche non rispondenti agli standard applicati attualmente a distaccamenti di pari tipologia. Al fine di superare le citate criticità, nel mese di maggio del 2018, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sottoscritto insieme alla Prefettura di Rimini, alla Regione Emilia Romagna e al Comune aderente all'ambito Riviera del Conca, un patto per l'insediamento di un centro integrato del soccorso all'interno del complesso all'invaso del fiume Conca. A seguito di tale accordo è stata avviata apposita procedura per la realizzazione di un polo del soccorso, all'interno del quale, insieme al nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, sarebbe stata insediata anche la sede del centro operativo intercomunale di protezione civile dei comuni interessati. Tale intervento prevede la riqualificazione edilizia funzionale di un compendio nel territorio comunale di San Giovanni in Marignano. Nell'ambito dell'accordo per la realizzazione del citato centro, ciascuno degli enti coinvolti e garantito la copertura economica per l'esecuzione degli adeguamenti funzionali necessari negli spazi di rispettiva pertinenza, oltre che per la separazione delle componenti impiantistiche attualmente comuni a tutto il compendio, al fine di realizzare la necessaria autonomia funzionale e di gestione. Nel corso dei successivi tali tecnici coordinati dalla Prefettura di Rimini si è preso atto che non si era ancora sviluppata da parte degli enti locali interessati la sinergia necessaria per l'avvio in tempi celeri della realizzazione del centro operativo intercomunale secondo le previsioni del patto sottoscritto nel 2018. Conseguentemente è stato proposto di procedere separatamente per la sede dei vigili del fuoco in modo da poter avviare in autonomia i relativi lavori. Da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco sono stati quindi confermati gli impegni finanziari per la realizzazione del nuovo distaccamento già a partire dall'esercizio del 2021. A tal fine l'intervento è stato inserito nella programmazione dei lavori del citato Dipartimento e nello scorso mese di maggio si è provveduto con accordo tecnico territoriale ad affidare le funzioni di stazione appaltante al provveditorato interregionale delle opere pubbliche per le regioni Lombardia e Emilia Romagna. Tale accordo discende da una convenzione quadro stipulata col Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che prevede l'esecuzione di tali attività su tutto il territorio nazionale. Attualmente il provveditorato ha avviato le procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili destinati a un nuovo sede di staccamento dei vigili del fuoco. Informo che la conclusione delle opere è prevista entro il 2023 compatibilmente con le tempistiche dettate dal codice dei contratti. Nell'emoria della realizzazione della nuova sede il comando dei vigili del fuoco di Rimini e il Comune di Cattolica per superare i limiti della sede attuale hanno individuato una sede provvisoria in cui possano essere allocati in tempi rapidi e in via temporanea il personale operativo e i mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco. Il sito prescelto è il fabbricato ex bus terminal del Comune di Cattolica. A riguardo il comando di Rimini ha già predisposto agli atti necessari, bozza concordata di comodato d'uso, elaborati grafici e fotografici della struttura, su quale il Dipartimento dei vigili del fuoco, con notte il 7 e 13 settembre scorso, ha esperto parere favorevole. Il Comune di Cattolica è già stato interessato per la sottoscrizione dell'accordo di comodato d'uso. Grazie, prego onorevole Di Maio. Ringrazio il sottosegretario per la risposta, credo che sia importante prendere atto degli elementi che ci ha fornito e anche in qualche modo sollecitare un'attenzione affinché le procedure siano le più rapide possibili, tenuto conto anche delle proteste che ci sono state, è stata indetta anche una giornata di sciopero da parte dei vigili del fuoco interessati di quel territorio, quindi accogliamo positivamente la disponibilità e l'attenzione che il Ministero sta riversando su questa vicenda, però ovviamente con la richiesta anche di continuare a monitorarne il rapido funzionamento, perché si tratta di una condizione davvero molto precaria e che rende difficile anche l'operatività delle donne e degli uomini che lavorano nei vigili del fuoco e che chiedono a gran voce di poter avere dotazioni e infrastrutture adeguate per rispondere ai propri bisogni. Ne approfitto per chiedere anche alla Commissione se si può avere copia via mail della risposta del sottosegretario. Grazie. Senz'altro ve la forniremo. Ora procediamo con l'ultima interrogazione dell'onorevole Gliezzi. Prego. Grazie Presidente. Io torno ancora una volta in questa sede sul caso della nomina di Marco Ciacci nel 2017 a capo dei vigili di Milano. Una nomina che secondo noi ha molti aspetti da approfondire sia in merito ai titoli di Marco Ciacci sia in merito alla trasparenza che ha visto appunto il sindaco di Milano ai tempi ancora attuale Beppe Sala nominare colui che stava invagando su di lui sul caso Eppo. A questi dubbi si è aggiunto anche il coinvolgimento di Marco Ciacci, attuale capo di vigili di Milano, in un caso di cui è chebazzato ancora alle cronache in questi ultimi giorni, di un omicidio stradale che ha visto coinvolta nella parte di responsabile la figlia di due importanti PM milanesi, Alberto Nobili e Ilda Bocassini. E avrebbe visto il coinvolgimento attivo di Marco Ciacci. Quindi chiediamo, vorremmo sapere se la parte del Ministero dell'Interno c'è l'intenzione di approfondire ulteriormente alla regolarità di questa nomina ed eventualmente intervenire sul nulla osta che è stato costesso a Ciacci, che faceva parte del corpo della Polizia per accedere ai vertici del corpo della Polizia Locale di Milano. Prego Monteno. Grazie, signor Presidente. Il caso in esame è già stato oggetto di un presente question time, svolto in questa sede lo scorso 8 aprile. In tale occasione si è avuto modo di riferire che la vicenda risalente all'estate del 2017 è nata dalla rinuncia all'incarico della loro comandante della Polizia Municipale di Milano e dalla sua sostituzione. Per la copertura in via temporanea di quell'incarico, l'11 agosto 2017, il Comune di Milano ha avanzato alla locale questura una richiesta di comando di un dirigente della Polizia di Stato. Presurato del collocamento in posizione di comando concesso al dirigente con decreto del Capo della Polizia, il Comune di Milano disponeva, con decorrenza dal 1 settembre 2017, l'assegnazione temporanea per la durata di anni 3 alla cui scadenza vi è stata una proroga per ulteriori 12 mesi, motivata dalle esigenze eccezionali connesse all'emergenza sanitaria del Covid e al termine dell'attuale mandato sindacale. I requisiti del dirigente erano stati enunciati nel decreto di conferimento dell'incarico nel quale si faceva tra l'altro riferimento alle sue competenze giuridiche manageriali e investigative. Il Comune di Milano, in merito alle ragioni della scelta del dirigente in questione, ha sottolineato che l'imprevedibilità dei fatti che hanno determinato la vacanza dell'incarico coincideva con una particolare congiuntura connessa al percorso di riorganizzazione strategica e funzionale del Comando di Polizia Locale del Capoluogo, volto a rendere l'azione sempre più coerente con il rinnovato quadro ordinamentale e con l'intenso dinamismo della città. In tale contesto, secondo quanto riferito al Comune di Milano, la soluzione adottata è apparsa la più donna per assicurare la rapida copertura del posto e l'innesto di nuove professionalità. Il Comune di Milano, altresì, ha avuto cura di precisare che per la procedura in questione si avvasse il combinato disposto dell'articolo 56 del decreto del DPR 10 gennaio 57, numero 3 dell'articolo 30 del comma 2 sex del decreto legislativo 165 del 2001. In particolare, per quanto tiene al rinnovo dell'incarico, l'appena citato articolo 30 comma 2 sex che costituisce la norma di riferimento per l'assignazione temporanea, non esclude la possibilità di un rinnovo alla scadenza del termine anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno da parte dell'amministrazione di destinazione e dell'esigenza organizzativa di quella di appartenenza. Infine, risulta che da ultimo, su richiesto del Comune di Milano e previa valutazione dell'interesse del Ministero dell'Interno, la posizione di comando del dirigente presso l'ente locale è stata prorogata fino al 31 dicembre 21, con decreto del Capo della Polizia in data sia agosto 21. Tale provvedimento ha superato il risconto preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente da parte della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di Bilanzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero dell'Interno. Giezzi, ha lei la parola per l'ultima replica? Io ringrazio il Sottosegretario per la risposta, che però non mi lascia soddisfatto, ma per una questione molto precisa. Io credo che sia necessario che il Ministro dell'Interno e il Ministero facciano delle valutazioni anche di opportunità politiche. Noi, vedete, stiamo ragionando con sullo sfondo un vero e proprio sistema palamara applicato alla città di Milano. Noi abbiamo un agente della Polizia giudiziaria che lavorava nel Tribunale di Milano, che indagava sul sindaco di Milano, Beppe Sala, che è stato assunto dallo stesso Beppe Sala come capo dei vigili. Non solo, poi si è trovato coinvolto in un processo, in una situazione drammatica, cioè l'uccisione del medico Luca Valtolina, che è stato attaccinato, è stato ucciso sulle strisce pedonali, investito dalla figlia di due importanti PM milanesi, Alberto Nobili e Ilda Boccassini, che avevano lavorato negli anni precedenti con lo stesso Marco Ciacci. Quindi con un evidente conflitto di interessi, testimoniato da ulteriori due fattori che sul luogo dell'incidente, cosa mai successa, è intervenuto, chiamato dai genitori della responsabile, lo stesso Marco Ciacci e alla figlia dei due PM milanesi non è stato fatto nessun tipo di accertamento né attraverso l'alcol test né attraverso quegli esami che servono per evidenziare la presenza di sostanze stupefacenti. Tant'è che è stato avviato dalla Procura di Brescia un procedimento per concorso in abuso d'ufficio e per vedere se erano evidenti dei favoritismi da parte del capo dei vigili di Milano nei confronti dei due PM milanesi. Insomma, tutta questa vicenda è una vicenda che rischia di gettare discredito anche sul corpo di provenienza di Marco Ciacci, oltre che gettare discredito sul corpo dei vigili urbani di Milano e sulla città stessa. È per questo che io ritengo che il Ministro degli Interni serveva un attimo svegliare dal proprio torpore e cercare di attivarsi per porre fine a questa vicenda con delle parole di chiarezza e anche di opportunità politica. Ringrazio, con questo abbiamo concluso. Saluto il Sottosegretario Molteni e tutti voi che avete partecipato. L'unica cosa di cui devo avvisare la Commissione è che ieri si è tenuta una capigruppo riguardo il decreto e che quindi è stato confermato che il decreto andrà in aula e quindi come avevamo predisposto in ufficio di Presidenza resta per lunedì la scadenza per la presentazione degli emendamenti che saranno esaminati nella prossima settimana. Grazie a tutti.